Siamo in Albania del Nord, nel profondo Nord, perché anche il nord dell'Albania c'è una parte più moderna nel frattempo e c'è questo profondo Nord dove senti un'aria rarefatta, dove le persone parlano in maniera molto piana, dove quando ti si dà una sigaretta e tu lo accetti, si mette poi in segno di ringraziamento la mano sul cuore, dove il saluto normale che ti si allunghi la vita, di fatti poi c'è dentro nel Vergine Giurata più volte questo che ti si allunghi la vita, io lo trovo un bellissimo saluto. Quindi profondo Nord albanese doppiamente, tre volte, quattro volte, tradito l'ho considerato io sempre, da qualsiasi tipo di governo che fosse quello comunista prima, ma anche questo di adesso nell'Albania sotto la democrazia, lasciato maltrattato, lasciato abbandonato, dove succede di tutto e di tutti, ma dove la bellezza, ecco la bellezza resta in mezzo a quella straordinaria, incredibile, lacerante povertà a volte, c'è questa bellezza dei gesti, questa bellezza delle parole non dette, è quasi quasi tutto fatto con gli sguardi. Quindi Hana, il personaggio principale di Vergine Giurata, la Vergine, che ha 19 anni per salvare suo zio dalla morte, o meglio per accompagnarlo questo zio verso la morte sicura, perché lui aveva una malattia incurabile, decide, perché per l'onore di una donna a quei tempi, una donna non poteva assolutamente viaggiare da sola, non poteva fare cinque ore di camion per andare fin giù in città dai monti a comprare i medicinali per questo zio, lei decide un bel giorno di vestirsi da uomo. Da quel momento tutto il villaggio sa che lei da quel momento in poi perderà tutti i diritti e i doveri di una donna, quindi non farà più un lavoro di casa, ma non si farà più toccare da un uomo, resterà vergine, giurerà verginità eterna e questa è una cosa seria, non può tornare indietro. Quindi Hana lo fa, ma Hana lo fa da un anno di università, dove studiava inglese, dove sognava questo mondo al di fuori della cortina di ferro, che per lei era una doppia cortina, non era soltanto il comunismo, erano anche i monti. Lei sognava, voleva diventare poeta, poetessa, scriveva pessime poesie e poi ha scoperto più tardi, molto più tardi, quando decide di riappropriarsi della sua femminilità, ha scoperto anche che magari la prosa era la sua arma forte invece della poesia, ma lei si era abbeverata della poesia tutta la sua vita. Per cui lei decide in molto lucido, ma senza rabbia, di vestirsi da uomo e di andare in città, così nessuno l'avrebbe disonorata, nessuno le avrebbe più impedito di far qualcosa e suo zio sul letto di morte non avrebbe potuto darle un marito con la forza. In Virgin Giurata succede che la sua solitudine diventa troppo, la solitudine del corpo. Lei decide di voler sentire la mano di un uomo su di sé e sono anni che questa cosa lo vuole, ma arriva un punto di maturità o anche di insofferenza verso quella castità che lei decide di rompere. Non lo può fare in Albania senza perdere la faccia. Una volta, per una cosa del genere, se una vergine giurata rimangiava la parola, poteva anche essere assassinata, si prevedeva dal kanun, da questa raccolta di leggi ancestrali del nord Albania, si prevedeva addirittura il rogo, ma non è mai successo perché era una cosa talmente sacra, era una cosa talmente seria che nessuna donna l'ha mai fatto, nessuna donna uomo si è riappropriata del suo corpo, si è innamorato di un uomo e ha cercato il matrimonio. Quindi lei vuole andare via dall'Albania per cominciare anonimato da qualche altra parte. Sa che sarà difficile dall'altra parte perché questa cugina che lei ha in America le dice, le racconta della sopravvivenza dell'immigrante, però le dice anche che l'America è grande ed è molto anonima. Per chiunque venga nessuno se ne cura di quello che tu fai, di quel che eri, di quello che sei. Ecco, lei vuole questo tipo di anonimato per ricominciare a provare qualcosa nel suo corpo. Prima di tutto accettarlo lei stesso. Lei ha trovato in quella solitudine dei 14 anni vissuti da uomo, perché mentre lei prende il giuramento, pochissimo tempo dopo lo zio muore, lei non riesce a salvarlo. E lei ha avuto tutto il tempo del mondo a pensarci, a rimettere se stessa in equilibrio, a scrivere queste poesie bislacche ma che dall'altra parte l'hanno salvata mentalmente. Ecco, la rarefazione dei monti l'ha aiutata a non diventare aggressiva, a non diventare cattiva. È per quello che lo considero un romanzo anche sulla bellezza, perché lei riesce fino in fondo a dire questo mi è successo, è una decisione che ho preso. Adesso vediamo di cavare il meglio di questo e io trovo che sia un grande segno di saggezza sua, che io poi ho trovato nei personaggi veri, dopo l'ho trovato. Loro non sono amare, non sono perché, come si dice, ne perdi qualcosa e guadagni qualcosa per loro. Loro sì hanno perso la femminilità e il fatto di avere una famiglia, ma hanno guadagnato in status sociale, perché portano il fucile, perché sono rispettate da uomini, perché possono entrare nel bar del villaggio ed essere rispettate come tutti gli altri uomini, cosa che da donna non puoi assolutamente fare. Quindi lei ha avuto 14 anni di tempo di ubriacarsi, di cercare di imbruttire la sua voce, di cercare di, cappelli naturalmente tagliati molto corti, di diventare un uomo esteriormente e di conservare questa donna minuta e piccola dentro di sé. Elvira Dones ha presentato Vergine Giurata, un libro feltrinelli.